Ti presentiamo l'incredibile Window Wonderland, il nuovo rivoluzionario proiettore che trasforma le normali finestre in splendidi schermi cinematografici. Adesso puoi trasformare le tue feste da ordinarie a straordinarie. È facile, basta posizionare il proiettore vicino a qualsiasi finestra, aggiungere lo schermo regolabile e selezionare un film incorporato per iniziare lo spettacolo. Adesso possiamo cominciare un affascinante Natale. Wow, Window Wonderland è la soluzione perfetta per decorare ogni tipo di abitazione, villa, condominio o appartamento. Tutto brilla! Sì, Window Wonderland è davvero luminoso e potente. Utilizza la tecnologia di proiezione avanzata per creare display luminosi, cristallini e colorati. La parte migliore, i 12 film esclusivi, sono già stati inseriti proprio all'interno del tuo nuovo Window Wonderland. E per Natale ci sono treni, pupazzi di neve e degli adorabili cuccioli che amo. Babbo Natale nella tua finestra! E per Halloween ci sono questi zombie spettrali, scheletri pazzi, zucche carine e tanti altri. C'è davvero qualcosa per tutti i gusti! Chiama e chiedi informazioni per Window Wonderland con 12 film personalizzati, lo schermo di visualizzazione facile da montare, i tamponi e la garanzia tutto per il prezzo che vedete in sovraimpressione. Puoi stare comodamente al caldo, mentre fuori la magia lavora per te. E quando le vacanze sono finite, le dimensioni compatte ti permettono di riporlo velocemente e facilmente. Chiama ora per informazioni!